ragazzi oggi sono da bra restaurant a sarno e un ristorante di sushi e cucina fusion pazzisco facciamo un roll al nero di seppia quindi partiamo da una base di alga e riso condito con nero di seppia gambero di mazzara del vallo russo rucola e maionese alla menta lo chiudiamo ed eccolo qua il nostro roll adesso lo andiamo a tagliare in ben quattro pezzi e dopo di che lo condiamo con un carpaccino di gambero crudo sempre di mazzara del vallo manca solo la sua maionese alla menta di nuovo come farcitura e via con un po di panco croccante guardate qua che spettacolo lo impiattiamo con un impiattamento tipico giapponese con una spennellata nero di seppia ed ecco qua il nostro roll un po di uova di pesce volante per contrasto ed eccolo qua il nostro roll al nero di seppia ragazzi vi invito tutti quanti a mangiarlo andate a vedere le storie